Buongiorno, uno dei grossi problemi che si riscontra durante il colloquio all'esame di stato e ve lo dico come docente che da anni ormai si trova ad ascoltare ragazzi che devono organizzare un colloquio e hanno veramente molte difficoltà nel trovare dei collegamenti interessanti è quello di trovare appunto dei collegamenti tra degli spunti che sono inerenti argomenti, materie trattate nelle materie di indirizzo e materie quali italiano, storia inglese piuttosto che spunti che partono appunto da una materia come italiano e storia e bisogna invece trovare un collegamento interessante per carità di collegamenti molto banali se ne trovano a gogo dicevo trovare collegamenti comunque interessanti quindi cominciamo a vedere come possiamo risolvere questa situazione ovviamente questi spunti sono spunti che mi sono inventata in parte ho proposto ai miei studenti io nell'ambito di qualche interrogazione limitandomi comunque a voler ascoltare semplicemente i collegamenti con la mia materia inerenti la mia materia che le tecnologie piuttosto che le materie di indirizzo questo è uno spunto che mi ha divertito molto appunto nel primo periodo abbiamo parlato dell'evoluzione dei sistemi distribuiti e quindi uno di questi spunti è stato dialogo tra Egnac e Leonardo. Per chi non conoscesse Egnac e Leonardo consiglio di andare almeno a leggersi cosa sono su questi link di Wikipedia in quanto sapere cosa sono per uno studente che esce dall'istituto tecnico soprattutto in campo informatico diciamo che è una condizione sine qua nona leggiamo il dialogo e vediamo un po' di vedere quali spunti possiamo cogliere per un collegamento non solo con le materie di indirizzo che è abbastanza semplice quanto piuttosto con materie come italiano e storia Leonardo Salve Egnac, come stai vecchio amico? Egnac, ciao Leonardo, sono ancora qui calcolando come sempre e tu? Leonardo Sempre al massimo delle prestazioni ho sentito dire che hai una memoria impressionante Egnac, sì ho una memoria di ben 20 kilobyte e tu? Leonardo Ui, io ho superato di gran lunga quella cifra ho un'enorme capacità di archiviazione di 500 gigabyte Egnac, wow sei davvero avanzato ma quanto tempo ci metti per eseguire un calcolo complesso? Leonardo Solo questione di nanosecondi e tu? Egnac, beh ci metto qualche minuto ma faccio del mio meglio almeno ho una vasta gamma di valvole elettroniche Leonardo Valvole elettroniche? Ormai sono passato il transistor, sono molto più efficienti Egnac, mi stai surclastando su tutti i fronti amico? Comunque, hai sentito parlare di questa cosa chiamata internet? Leonardo Certamente, sono connesso in rete con il mondo intero e tu? Egnac Non ancora, ma ho sentito voci Devo rimanere aggiornato Sai, sono stato trasferito al Museo Smithsonian Institution a Washington nel 1955 dove sono ancora esposto Leonardo Wow, sei diventato una vera reliquia storica? Ma almeno siamo qui, ancora operativi e pronti per affrontare il futuro dell'informatica Egnac, hai ragione Leonardo Siamo testimonianze viventi dalla rapidità con cui la tecnologia evolve In bocca al lupo amico mio Leonardo, in bocca al lupo anche a te Egnac Che la nostra memoria sia eterna anche nei musei Allora, i collegamenti con le materie di indirizzo sono immediati Ne vediamo velocemente alcuni e comunque non sono assolutamente esaustivi Sistemi e reti Possiamo collegare la discussione sulla potenza di calcolo e la capacità di archiviazione con i concetti di rete e la trasmissione dei dati Parlare ad esempio di architettura dei computer Differenze tra le prime macchine calcolatrici e i moderni computer in termini di sistemi reti E parlare anche di trasmissione dati Cioè, come le capacità di archiviazione e la velocità di calcolo influenzano la rete Informatica Si può parlare dell'evoluzione dell'hardware Dal primo computer Egnac fino ai moderni super computer E del loro impatto sullo sviluppo del software Quindi, in termini di evoluzione di hardware Dall'Egnac ai chip moderni Come si sono sviluppati i componenti fisici dei computer E l'impatto importantissimo sul software Come il miglioramento dell'hardware ha permesso lo sviluppo di software più complessi E poi TPSIT La mia materia Esamina come le innovazioni tecnologiche hanno trasformato le telecomunicazioni alla progettazione dei sistemi Cioè, come le nuove scoperte hanno cambiato il mondo delle telecomunicazioni E l'importanza della progettazione nell'evoluzione dei sistemi informatici GPO Gestione progetto Si può discutere il ruolo della pianificazione e della gestione di progetti nell'evoluzione dei computer Dall'Egnac ai giorni nostri Quindi parlare di pianificazione L'importanza della pianificazione nella realizzazione di progetti informatici di successo Piuttosto che nella gestione delle risorse Come una gestione efficace delle risorse ha influenzato lo sviluppo dei computer Questi sono alcuni spunti, ma ripeto, molto immediati relativi alle materie di indirizzo E ce ne sono tantissimi altri Veniamo invece a quello che ci interessa di più, mi interessa di più in questo video Quindi suggerirvi degli spunti collegati a Italiano e Storia Ovviamente io ho preso spunto dai programmi di Italiano e Storia svolti dai miei studenti Ma praticamente penso che tra gli autori, l'italiano che sono elencati in italiano E in periodi storici a cui si fa riferimento Tutti gli studenti al termine del quinto anno Possano comunque attingere da questi suggerimenti Italiano, età del realismo, Giovanni Verga Progresso tecnologico contro tradizione Confrontare la resistenza al cambiamento mostrata nei personaggi di Verga Con l'atteggiamento di Eniac verso il progresso rappresentato da Leonardo E' uno spunto interessantissimo questo Verismo, riflettere su come il verismo mirassa una rappresentazione fedele della realtà Parallela all'accuratezza e alla precisione che la tecnologia informatica cerca di raggiungere Decadentismo e simbolismo Baudelaire e la modernità Analizzare come Baudelaire affronti il tema della modernità e del progresso In relazione al dialogo tra le due macchine Che rappresentano diverse ere tecnologiche Giovanni Pascoli Tecnologia e natura Considera come Pascoli trovi bellezza e poesia nella natura Mentre nel dialogo si discute di bellezza e potenza nella tecnologia Quindi un parallelismo Gabriele D'Annunzio e l'estetismo Esplora il concetto di bellezza e perfezione nell'arte di D'Annunzio Come questo si possa collegare alla ricerca della perfezione tecnologica in Leonardo Le principali avanguardie tra 800 e 900 Innovazione e rottura Rifletti su come le avanguardie abbiano rotto con il passato per esplorare nuove forme Parallelo al desiderio di Leonardo di superare Enyaq e riscrivere il futuro Italo Svevo Evoluzione dell'inetto Paragona l'inetto zeviano che si evolve e si adatta malamente alla società con Enyaq Che rappresenta una fase superata della tecnologia Anche questo mi piace tantissimo come suggerimento Luigi Pirandello Identità e realtà Collega il tema pirandelliano della costruzione dell'identità con la discussione tra Enyaq e Leonardo Sulla loro identità e ruolo storico Giuseppe Ungaretti Semplicità e chiarezza Relaziona la ricerca di semplicità e chiarezza in Ungaretti con la complessità e l'efficienza della tecnologia Moderna I poeti ermetici Erometismo e tecnologia Discuti come l'erometismo cerchi di esprimere l'indicibile Mentre la tecnologia cerca di rendere tutto quantificabile e comprensibile Eugenio Montale Contrasto tra tecnologia e umanità Rifletti su come Montale esprime il disagio dell'uomo moderno In contrasto con l'ottimismo tecnologico di Leonardo Letteratura della resistenza e neorealismo Realismo e attualità Confronte il realismo e l'attualità del neorealismo con la realtà attuale della tecnologia e il suo impatto sulla società Secondo me ci sono tantissimi spunti veramente interessanti Che tra l'altro si possono adattare anche Scusate tantissimi collegamenti decisamente interessanti Che si possono adattare anche ad altri spunti Che partono appunto da una materia di indirizzo Attenzione ragazzi perché Può essere Può essere veramente Io ve lo dico come docente Il mostrarsi all'orale Presentarsi all'orale Facendo dei collegamenti interessanti Questo è veramente quello che dovrete fare E quello che per cui noi, noi docenti, premieremo il vostro orale Storia Ovviamente scusate, interessanti e pertinenti Questo è scontato Storia Vediamo qualcosa con storia La Belle Epoca è il primo novecento Innovazione e ottimismo La Belle Epoca fu un periodo di grande fiducia nel progresso e nell'innovazione Simile all'entusiasmo di Leonardo per le nuove tecnologie Bellissimo collegamento però l'anno scorso vi assicuro Su 20 orali, 20 collegamenti alla Belle Epoca Quindi così, innovazione va benissimo Progresso e innovazione però non cerchiamo di ficcarcela dovunque Prima guerra mondiale Tecnologie guerra L'uso della tecnologia in guerra come l'artiglieria e le comunicazioni Può essere paragonato all'evoluzione tecnologica discussa da Enyaq e Leonardo I totalitarismi in Europa Controllo e potere Rifletti su come i regimi totalitari abbiano cercato di controllare la società e la tecnologia E come questo desiderio di controllo si manifesti anche nella competizione tra Enyaq e Leonardo Dagli anni ruggenti la crisi del 1929 è il New Deal Crisi e innovazione La crisi economica portò nuove politiche e innovazioni come il New Deal Parallelmente le crisi tecnologiche portano sviluppi e miglioramenti Anche questo è interessante Situazione geopolitica internazionale negli anni 30 Lotta per l'indipendenza e innovazione La lotta di Gandhi per l'indipendenza e la resistenza cinese all'invasione giapponese Possono essere viste come metafore della resistenza di Enyaq al superamento da parte di nuove tecnologie E arriviamo alla seconda guerra mondiale Evoluzione della tecnologia bellica La rapida evoluzione della tecnologia durante la seconda guerra mondiale Può essere collegata all'accelerazione dello sviluppo tecnologico rappresentato da Leonardo Magari evitiamo di parlare sempre della solita macchina di Enigma e di Turing Scontatissimo La guerra fredda e la decolonizzazione Competizione tecnologica La corsa allo spazio e la competizione nucleare durante la guerra fredda Possono essere paragonate alla competizione tra Enyaq e Leonardo Gli anni della contestazione Rivoluzione culturale e tecnologica Il 68 fu un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali Così come il dialogo tra Enyaq e Leonardo Rappresenta un cambiamento nell'era tecnologica Anche questo a me piace molto come suggerimento E poi l'Italia repubblicana Ricostruzione e progresso L'Italia post bellica si concentrò sulla ricostruzione e sul progresso Temi che risuonano con l'ottimismo di Leonardo Per il futuro della tecnologia Bene ragazzi Spero di avervi dato qualche spunto Qualche idea Ci vediamo prossimamente con uno spunto numero 2 Magari uno spunto che anziché partire da un argomento in materia di indirizzo In questo caso un dialogo tra un vecchio computer e un nuovo computer Un vecchio super computer Chiamiamolo così Enyaq Anche se non era un super computer E un super computer Leonardo Parte invece da Che ne so una poesia Piuttosto che un'immagine Una rappresentazione Di qualche fatto storico Vedremo cosa avrò voglia di inventarmi Intanto grazie E al prossimo spunto Buona serata a tutti